Seconda edizione del Salone del Vino di Torino, una grande opportunità per presentare i vini del nostro territorio e le nostre aziende produttrici, più oltre 45, abbiamo 145 tipi di vino, 7 denominazioni di origine e un Salone del Vino che però si amplia al territorio ovviamente regionale ma anche nazionale, quindi con la Valle d'Aosta, con il territorio del Piemonte, un grande happening per il vino, anche per il nostro turismo, per attirare sulla nostra città tante persone che vengono a assaggiare questo prodotto fantastico che mette insieme le persone e ci fa gioire.